what's up guys quel vostro naked che vi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video signori finalmente sono arrivate le doppie pistole le famosissime akimbo che è possibile utilizzare con qualsiasi pistola presente nel gioco ma come si fa perché in realtà non sono fin da subito disponibili infatti bisogna sbloccarlo semplicemente ragazzi nelle specialità è stato aggiunto un accessorio in più ovvero come potete vedere in fondo doppia arma io l'ho già sbloccato ma non è niente di particolarmente difficile anzi proprio la missione è quasi una roba simbolica difatti ragazzi bisogna fare tre uccisioni con un accessorio qua a scelta diciamo del gioco in questo caso con la deagle tre uccisioni con le fmj in cinque partite diverse nella dicitura ragazzi non c'è scritto ma bisogna fare tre uccisioni consecutive in una partita per cinque partite diverse io per il momento ho fatto la deagle come potete vedere doppia arma e la 1911 sono diciamo le pistole quelle che ho fatto ora quello che ho utilizzato di più in questo caso per esempio per questa pistola non bisogna mettere l'fmj ma bisogna accessorare premio extra cioè fare uguale identico tre uccisioni consecutive in cinque partite diverse con però premio extra infatti se andassimo a vedere per esempio la revolver che non ho sbloccato appunto l'accessorio bisogna fare come potete vedere in basso tre uccisioni sempre cinque partite diverse usando la specialità ricognitore che non è che è sbloccato quindi sarà una di queste tre eccezionale ragazzi prima di portarvi in game due cose che non bisogna tralasciare nel momento in cui volete utilizzarle ovvero innanzitutto ragazzi il laser quello da 5 ovvero quello che praticamente è attivo quando non si mira perché come potete immaginare non si può mirare dato che con l2 spari con la pistola di sinistra e con il r3 con la pistola di destra quindi questo è un accessorio fondamentale seconda cosa ragazzi specialità sciacallo dovete mettervelo assolutamente perché le munizioni spariscono a vista d'occhio quindi ragazzi andiamo in game ok ragazzi sono capitato in shipment casca un po pennello diciamo che non ho giocato a rust per un semplice motivo dato che secondo me è veramente incompatibile con lo stile di gioco che c'è adesso in modern warfare la mappa per carità di dio è molto bella le akimbo sono veramente devastanti chiaramente ragazzi solo esclusivamente scontro ravvicinato perché però vi motivi non da lontano sarebbe un po un problema uccidere quindi shipment fa proprio al caso nostro mi devo abituare a sparare perché non è che sono proprio ferratissimo adesso però sfasci gli avversari veramente pazzesco porco due porco lo smirati maleficamente porco due muori che non è ric... questo qua così devo ucciderlo per forza addio che cosa sta succedendo oh madonna devo entrare di prepotenza da questi qua così con la violenza in mano proprio no sto sparando ad minchium ok ma che cazzo porco due oh no 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 sto schiacciando tutti i tasti a caso no non è vero sto schiacciando solo l2 r2 però con violenza porco due li sbaglio raga è veramente debbo dire divertente allora chiaramente ho anche le munizioni a parte quindi si è sta ma che cazzo lo di sfiga porco due non provare mai più a sdraiarti senza il mio permesso te l'avevo detto che dovevi farlo manca te porco oh salve era nascosto nel nel buio delle tenebre ma questo è sempre sdraiato ma che cazzo è al mare questo ma guarda questo qua scusa io ho bloccato la mossa finale proviamo le altre che sono un po' più che io dato che sono un po' più rapide sparano molto più veloci rispetto alle dico non vedo niente vorrei vedere non vedo porco porca oh la madonna no 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 just me just me porco due porco due porco due ma un secondo devo ricaricare guarda questo sdraiato qua aiuto madonna raga se utilizzate queste due pistolini che sto usando io adesso in veterano fate un macello veramente ragazza che praticamente si one shotta con queste in veterano figurati cosa non aveva caricato quanto ci mette a caricare un botto un tot due rotto orco due un tritura carne portatile unica cosa effettivamente questo è sempre sdraiato che mi sto accorgendo adesso che a ricaricare ci mette un bochino però in realtà no in realtà no non si può compensare la ricarica no ma no perché c'è già lo slot per le doppie armi quindi niente dovete solo abituarvi un attimo a quando finiscono i proiettili appostarsi un attimino ok raga questo video termina qui diciamo che è un'arma carina no secondo me è una delle più divertenti di tutto il gioco chiaramente la usate come seconda arma se volete un po' fare un po' i cazzoni diciamo che l'arma ha ideale perché è abbastanza rotta devo dire che se poi la utilizzate soprattutto in veterano diciamo che li diventate imbingibili noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video bella ciao ciao